Comunione ha per la prima volta fatto domanda per ottenere la bandiera arancione che abbiamo fatto grazie al supporto della regione Piemonte che ha copiato tutte le spese e abbiamo fatto con la consapevolezza che non avremmo ottenuto quest'anno una bandiera arancione ma con l'obiettivo di ottenere un percorso di miglioramento per avere la bandiera arancione nel giro di due o tre anni a massimo. Ci ha fatto molto piacere vedere che tra le indicazioni uscite da sopra un luogo da parte del Touring Lab, Domenia ha lavorato bene dal punto di vista dell'informazione della comprensia turistica, è stato premiato il nostro portale turistico di Domenia, il nostro nuovo infopoint in collaborazione con la postcommercio e tutta una serie di altre azioni che abbiamo fatto in questo senso. Ci sono alcune pubblicità che sono emersi, cose che ci aspettavamo, sulle quali lavoreremo nei prossimi mesi, a partire dalla necessità di una cittadierde, il mio cavallo di battaglia negli ultimi anni e che è anche grazie al supporto del Tone di poter far diventare su di sì durante tutti i mesi estivi per qui in avanti. Altre pubblicità immerse sono legate alla signaletica dei principali attrattori turistici e effettivamente se presto siamo un po' scarsi e l'impegno è quello di arrivarci al museo in qualche mese, alla prossima situazione turistica, così come una migliore frutturità di tutta una serie di realtà che abbiamo a partire dal museo e dal casalingo fino anche ad una serie di luoghi religiosi sul quale dovremmo necessariamente aprire una collaborazione con le parrocchie per renderli maggiormente rubili. C'è poi tutta una serie di migliori e richieste più complicate legate all'aspetto fragilistico della città che non è solo Rodolfo ma riguarda anche i singolari della presenza dei condomini e la presenza di alcuni edifici fatiscenti per il centro storico. Su questo però, assieme a tutto il mosso, è andato avanti con tutta una serie di iniziative che speriamo possano portare i benefici a breve, a partire dall'incentiv, dall'infascimento del facciato che stiamo aspettando di trovare le risorse che potevano rifinanziare nuovamente e il piano di condomini che grazie ad alcuni architetti è stato predisposto e ci siamo stiamo cercando di capire come renderlo entro attuale. L'obiettivo è quello di andare avanti con questo percorso e tenere la mia ragione in due o tre anni al massimo.